buongiorno e benvenuti all'appuntamento di aggiornamento settimanale su finanza investimenti prosegue la fase di volatilità sui mercati con l'alternanza dei ribassi e rimbalzi a singhiozzo le valutazioni sono in prossimità dei massimi storici e al momento sembra che il mercato non riesca a sfondare verso l'alto questi massimi quale dovrebbe essere l'atteggiamento degli investitori in questo momento come gestire la volatilità in atto che coinvolge azioni e obbligazioni per contagiare anche le criptovalute partiamo come sempre da un'analisi degli ultimi accadimenti con le notizie e le dichiarazioni più importanti a proposito di dichiarazioni ha suscitato clamore la presa di posizione di Ray Dalio che durante un'intervista sembra aver dichiarato che preferisca detenere bitcoin piuttosto che bond di questo profonderemo tra poco la settimana si è caratterizzata da una forte volatilità sul mercato delle criptovalute volatilità che ha determinato un effetto di fuga dal rischio cosiddetto risk off anche sulle attività tradizionali interessante movimento dell'oro che sembra aver interrotto il suo trend discendente durato 10 mesi circa e che si riporta sui massimi da gennaio intanto si è arrestato il rally delle materie prime anche in scia alle dichiarazioni della cina che ha riaffermato la sua forte volontà di contenere rialzi delle commodities e di voler punire eventuali comportamenti speculativi un rallentamento della corsa delle materie prime significa in generale una minor pressione sull'inflazione che continua a restare il tema dominante sul mercato mercato che a tutti gli effetti è entrato in una fase digestiva nel senso che si trova ora a digerire le notizie ricevuto nel corso degli ultimi 12 mesi e che sono seguite ad una crisi sanitaria e finanziaria senza precedenti storici confrontabili nei tempi moderni non esistono infatti esempi di crisi analoghe che hanno causato un coma farmacologico dell'economia su scala globale quindi le forze contrapposte che tirano l'umore dei mercati sono le prospettive di una forte accelerazione economica e un'ipotetica fiammata dell'inflazione che è alla base dell'attuale instabilità instabilità che sta minando sia azioni che obbligazioni come si risolve questa instabilità per rispondere dobbiamo analizzare la fase del ciclo economico in cui ci troviamo a tutti gli effetti si è aperto uno scenario di ripresa ciclica con tassi di crescita economica nettamente superiori rispetto alla media degli ultimi 10 anni per quanto riguarda l'inflazione è ragionevole credere che si tratti veramente di un fenomeno temporaneo destinato a rientrare con la normalizzazione delle catene di produzione globale è comunque molto probabile che pur diminuendo la sua corsa l'inflazione si possa attestare su livelli superiori rispetto a quelli visti nel corso del trascorso decennio dove ci portano queste riflessioni in termini di scelte di investimento il dato certo è che oggi l'unica asset class in grado di fornire rendimento al portafoglio è rappresentata dalle azioni quindi combinare l'esposizione azionaria con l'investimento obbligazionario indecizzato all'inflazione oro e materie prime a proposito di obbligazioni dicevamo in apertura che il celebre investitore reidalio avrebbe affermato di preferire i bitcoin ai bond come interpretare questa dichiarazione proveniente da una fonte così illustre innanzitutto attenzione ad estrapolare singole dichiarazioni dal contesto reidalio già qualche mese fa aveva pubblicamente comunicato il suo parere sulle criptovalute e sul bitcoin da lui stesso definito un'invenzione infernale inoltre un conto è parlare a titolo personale altra cosa effettuare decisioni di investimento sul patrimonio che è in gestione con il suo hedge fund bridgewater già in passato dichiarazioni personali anche estreme di reidalio non si sono tradotte in scelte di investimento di bridgewater che punta a preservare e valorizzare il patrimonio dei clienti e non certo a seguire scommesse speculative inoltre guarda caso un'altra fonte autorevole bloomberg commentando le dichiarazioni di reidalio in modo obiettivo precisa che una larga parte del patrimonio di bridgewater è investito in titoli di stato americani ed altre obbligazioni internazionali come sempre vi lascio il link ad alcuni articoli del mio blog dove parlo di diversificazione del portafoglio e dove analizzo l'opinione di reidalio sul bitcoin ci vediamo la prossima settimana un caro saluto a tutti